Sono aumentati gli infortuni sul lavoro, anche mortali in Lombardia a gennaio. Secondo i dati ufficiali dell'INA, le sono stati 12 morti sul lavoro e oltre 7.500 gli incidenti. Sono aumentate anche le malattie dovute alle mansioni svolte nelle o per le imprese, oltre 4.700. Sentiamo Eloisa D'Aquino della segreta area della UILA Lombardia. In Lombardia sono in aumento significativo le denunce di infortunio con esito mortale e le malattie professionali. Parliamo di oltre 7.500 denunce nel solo mese di gennaio con un triste primato in ambito nazionale di infortuni mortali, già 12 nel solo primo mese dell'anno. Questi dati ci dico anche che sono i giovanissimi, i giovani più colpiti, segno che occorre potenziale non solo i controlli ma soprattutto intervenire sulla formazione, che troppo spesso risulta essere sufficiente e inadeguata. Occorrono investimenti e l'assunzione di personale dedicato all'attività di prevenzione e vigilanza. Su questo come UIL continueremo ad incalzare regione Lombardia, istituzioni e denti preposti.